541 nuovi casi di covid in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo il 20,5% dei 2636 test processati. Riguardano persone d'età compresa tra un mese e 98 anni, tra loro anche il direttore generale della ASL di Lanciano Vastochieti, Thomas Schell, che attualmente, come fa sapere l'azienda sanitaria, è in isolamento domiciliare con pochi sintomi. Dei nuovi casi di oggi, 173 sono della provincia dell'Aquila, 57 della provincia di Chieti, 112 del Pescarese e 187 del Terramano, mentre 11 provengono da fuori regione e per una persona sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 321 dei contagi individuati nelle ultime 24 ore fanno riferimento a tracciamenti di focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 646. Si tratta di un 78enne della provincia di Teramo e di un 58enne della provincia di Pescara. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 11.416 più 466 rispetto a ieri. 547 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 52 più uno rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.353 più 464 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.